il liceo classico linguistico e scientifico con opzione anche scienze applicate don cardo lamura è un vero microcosmo culturale composto da saperi declinati in tutte le possibili accezioni ma è anche una memoria storica di una collettività che deve gran parte della sua formazione proprio al liceo quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario della sua fondazione le immagini e le testimonianze di questo lungo tempo sono state raccolte in un volume che il dirigente scolastico filippo toriello ha strenuamente voluto questo è uno spazio di saperi che coglie ogni occasione per aggiornare la sua offerta formativa e culturale una nuova occasione di aggiornamento viene data dal piano nazionale di ripresa e resilienza c'era da scegliere in che modo utilizzare anche questa possibilità questa grande possibilità del pnr e per la verità su una didattica che io considero fondamentale anche quella tradizionale ho innestato un delle modalità di apprendimento che sono veramente innovative parto dal fatto che all'interno nell'altro edificio verrà situato un planetario con una possibilità per gli studenti di veramente di poter sperimentare che cosa significa anche ritrovarsi in un luogo dove è possibile studiare l'universo anche se in maniera diciamo per copia e se andiamo più avanti per le novità ripeto qui pianteremo una impianteremo una web radio formeremo i ragazzi formeremo una parte dei docenti e quindi sarà anche una voce sul territorio per non parlare poi delle aule le aule che noi definiamo le aule scolastiche sono tutte interessate dal fatto che saranno aule immersive in quello che oggi definiamo il metaverso con quelli che sono i visori fondamentali per ogni ragazzo quindi ogni aula ce l'avrà e potranno sperimentare quello che viene definito il laboratorio virtuale fino ad arrivare a altre forme che ripeto forse in questo io sono pure meno competente rispetto alle nuove generazioni quindi un liceo che si copre di novità su un su un troncone e con delle radici tradizionali non ho paura di dirlo che sicuramente daranno la possibilità agli alunni di sperimentare sia il la paidea classica come si diceva un tempo che la bildung tedesca che è la tecnica che di cui oggi non possiamo fare a meno quindi degli spazi che sono spazi interni ma che è un microcosmo essendo un microcosmo significa che è collegato con l'esterno e internet esterno qui scompaiono perché i ragazzi avranno l'opportunità di questa offerta formativa che credo non hanno almeno nel territorio rispetto a queste novità che io ho presentato qui in questo spazio che mi ha dato questo spazio il dirigente anzi il preside toriello lo considera una vera officina attenta alle istanze e alla rielaborazione dei saperi in una società liquida che è in continuo cambiamento io direi che è veramente una grande officina di racconti un'officina di narrazioni che partono dalle biografie individuali e arrivano alla sperimentazione dei docenti e quindi in altra situazione ho risposto è un modo in cui il sapere viene dato ma sicuramente viene rielaborato altrimenti non è un sapere che è un sapere che produce c'era un autore di tanti anni fa che diceva che il sapere può essere anche un sapere bancario dove tu lo pigli lo depositi e rimane là noi siamo per l'altro versante quello di un sapere che viene dato e si sviluppa veramente attraverso una fucina e un'officina che è di di saperi diversi durante la sua dirigenza il preside toriello ha anche recuperato lo storico edificio laterale al nuovo liceo dotandolo di laboratori d'avanguardia senza tralasciare la creazione di una biblioteca autonoma che presto sarà accessibile a tutti i cittadini che potranno così consultare le migliaia di libri che l'istituto ha in dotazione e che sono in fase di catalogazione abbiamo un edificio indipendente che è tutto dedicato per la maggior parte almeno tre quarti ai laboratori da quello informatico che veramente è un luogo è uno spazio che è veramente fondamentale per i ragazzi poi c'è il laboratorio di scienze biologiche e per finire la biblioteca quest'anno anche se in maniera non so limitata rispetto a un regime che potrebbe essere normale l'aprirò al pubblico e l'ho resa indipendente in maniera tale che con un'entrata dal varco 2 che sta situato su via baden powell poi si potrà entrare e senza per questo invadere poi i luoghi dello stesso edificio il liceo lamura è un istituto concepito in maniera moderna che va oltre la percezione spaziale annullando le divisioni tra l'interno e l'esterno proprio all'esterno c'è una parte fondamentale del sistema scuola un lavoro in progressione che il preside toriello segue con particolare attenzione la realizzazione di una palestra polivalente e multidisciplinare indoor che permetterà agli alunni del liceo di potersi completare anche motoriamente mediante attività sportive e magari anche agonistiche qui stiamo pensando a qualcosa di nuovo pure grazie al pnrr il nuovo inizia da questo spazio questo che adesso vediamo sarà ricoperto con una struttura che i tecnici della situazione mi definiscono tra la tensostruttura e la tendostruttura comunque sarà ricoperto e quindi i ragazzi potranno avere veramente quella possibilità di avere uno spazio per la palestra l'altro spazio che se riusciamo a vedere che subito dopo questo campetto invece sarà all'aperto ma sarà un altro campetto di pallavolo di pallacanestro con pavimentazione ad hoc per cui i ragazzi in questo spazio veramente finalmente dopo 40 anni il liceo avrà uno spazio dove i ragazzi saranno in una situazione tale da poter essere capaci di esprimere anche la loro espressività tra gli sport più conosciuti e la possibilità di movimento che pur sempre conoscenze grazie a tutti